Faccio questo video perché ho un amico che ha voglia di scherzare, quel grandissimo figlio di Roma che è Lorenzo. Ha voglia di scherzare ragazzo, me lo faccio sentire. I prossimi 10-11 mesi potrei ascoltarlo da questo audio perché visto che è in televisione allo stadio probabilmente non lo potrai sentire visto che arriverete quinti, come io ho detto, otto mesi fa. Io ho fatto questa scommessa con tutti quelli che mi hanno criticato su tutti i video. Io ho scommesso, quando forse tu ancora non mi conoscevi, ero sicuro, quando voi eravate i primi che non sareste arrivati in Champions. Se questo succede, voglio una statua per prevedere il futuro. Una statua te la darei in testa per le cappellate scemenze che dici. L'Inter arriverà in Champions, lo dico con fierezza e con sicurezza. Sicurezza nei propri mezzi, credo fortemente nell'armata di spalletti e ti dico, caro Lorenzo, che andremo in Champions. Ma visto che a te piacciono, piacciono le scommesse, allora ci giochiamo qualcosa, allora ci giochiamo qualcosa, facciamo così, facciamo così. Facciamo così, facciamo così. Se l'Inter non va in Champions, io dico forza Juve. Faccio un video e dico forza Juve. Se l'Inter va in Champions, tu fai un video e dici forza Lazio. Adesso voglio una tua risposta. Fammi sapere se accetti la sfida o se te la fai sotto nelle mutante. Io sono tranquillo, sono sereno e sono consapevole che ce la possiamo fare. Ti spiego il motivo, caro Lorenzo. Non so nemmeno pronunciare il tuo nome. Perché mi sono perso. Comunque volevo dire che quando io ascoltavo questa musichetta, tu secondo me eri lì nella tua culla che ti faceva da ninna-nan quando io ascoltavo questa musichetta. Vabbè, vabbè, scherzi a parte, sfottò, è quello che vuoi amico mio. Ti dico perché, ti dico perché andremo in Champions. Perché innanzitutto il calendario ci è molto agevole. Il calendario, onestamente, noi affronteremo in Sassuolo la prossima gara. La Lazio affronterà il Crotone, sappiamo bene che Crotone deve salvarsi. Lo affronterà il Crotone nella propria casa, ossia a Crotone, mentre noi il Sassuolo lo affronteremo in casa. Sassuolo già salvo, non dovrebbero esserci problemi. Ma nel caso ci fossero problemi e non vincessimo un corso a Sassuolo, giusto che non andiamo in Champions. Cioè, giustissimo che non andiamo in Champions. E quindi, già la prossima gara, onestamente, potrebbe delineare un altro punto a nostro favore. Ma se così non fosse, noi ce l'andremo a giocare contro la Lazio all'Olimpico. L'Inter ha dimostrato che, con le grandi, non sbaglio un colpo, non sbaglio un colpo. Ce la siamo giocata addirittura in dieci con la Juventus, egregiamente. Stiamo parlando della Juventus, la squadra che ha fatto 91 punti in questo campionato. 91 punti. E noi, per 70 minuti, abbiamo ammientato quella squadra mentalmente, fisicamente. da ogni punto di vista, per 70 minuti in dieci contro la Juve. Quindi, figuriamoci se ho paura di una squadra, la Lazio, che becca una caterva di gol, che con l'Atalanta ne doveva pescare 5, ne doveva pescare 5, invece se l'è cavata con un risicatissimo 1-1. Conciò, tanta stima per Simone Inzaghi, tanta stima per la Lazio, che ha un gioco, ha un cammino incredibile, e mi complimento con loro, però tanta stima sì, tanto rispetto sì, ma paura zero, paura nessuna, ce la giochiamo, li battiamo e andremo tranquillamente in Champions. Vedrai, vedrai, caro amico Lorenzo, vedrai come andrà a finire, lo vedrai da te. E questo era, era, era per chiarire un po' la faccenda, per chiarire, e ripeto nuovamente, rinuovo la scommessa, se la Lazio va in Champions, io farò un video e dirò, caro Lorenzo, forza Juve, lo farò. Non ho nessun timore, perché sono sicuro che in Champions ci andremo noi, e in questo caso, tu farò un video e dirai, forza Lazio, fammi sapere se non te la stai facendo sotto, fammelo sapere, fammelo sapere pubblicamente, pubblicamente perché poi, come lo staranno vedendo i miei iscritti, lo dovranno vedere i tuoi iscritti, e ci divertiremo, ci divertiremo, caro Lorenzo. Per il momento, un abbraccio a tutti, forza Inter, amala sempre e comunque, e ci becchiamo, ci becchiamo ragazzi. Un abbraccio da Neschio. Se ancora non l'hai fatto, lascia un like alla mia pagina Facebook, iscriviti al canale YouTube e seguimi su Instagram.